Gennaio sarà un mese chiave per stabilire nomi e alleanze che si presenteranno alle elezioni per il sindaco di Cesena il prossimo maggio. Lo sa bene Enzo Lattuca che lunedì ha chiamata raccolta le varie realtà dell'universo del centro-sinistra cesenate per fare il punto su una possibile alleanza. L'ex parlamentare ha il nome scelto dal Partito Democratico per portare avanti la tradizione della sinistra che da decenni governa Palazzo Albornoz e che questa volta, più che mai, dovrà faticare parecchio per ottenere una vittoria. A dirlo sono prima di tutto i dati delle politiche del 2018, dove per la prima volta il Partito Democratico è stato superato dal Movimento 5 Stelle che ha ottenuto il 30% dei voti. Nonostante l'ottimo risultato che li ha trasformati nel primo partito, i grillini non hanno tuttavia saputo compattarsi. Negli ultimi mesi si è creata una spaccatura interna tra due correnti, tanto che le due parti si riuniscono ora in due sedi diverse. Una situazione molto pericolosa che potrebbe addirittura portare il Comitato Nazionale a negare l'utilizzo del simbolo per le elezioni comunali. Situazione di attesa anche per quanto riguarda il centrodestra, qui a farla da padrone la Lega, che con Forza Italia e Fratelli d'Italia sta discutendo per la scelta di un candidato. I due nomi caldi sono da diverse settimane l'imprenditore Andrea Rossi e il giovane editore Francesco Giubilei, anche se non si esclude il colmongimento di una personalità del mondo cattolico. Alla finestra i cosiddetti outsider, i popolari di Gilberto Zoffoli che hanno disertato l'incontro con la Tuca, Casa Pound che correrà da sole, ha già presentato il proprio candidato Antonio Bardanti, Cesena siamo noi, presieduta da Antonio Valletta e l'ex consigliere dei Verdi Davide Fabri che sarà candidato a sindaco con la lista civica Cesena in comune. Grazie a tutti.